La guerra è un dramma che moltiplica i suoi effetti anche oltre il campo di combattimento, oltre alle vittime e ai numerosi feriti, l'annientamento di un territorio e delle strutture sanitarie rende impossibile la cura di coloro che soffrono a causa di malattie importanti. Per sopperire a questa necessità è stata attivata una missione umanitaria a favore di pazienti pediatrici palestinesi alla quale ha aderito anche l'ospedale Gaslini di Genova. Il Gaslini è stato coinvolto sin dall'inizio con una missione che è iniziata in Egitto per valutare i pazienti per il trasporto e quindi abbiamo contribuito insieme all'Aeronautica Militare, alla Marina e al Ministro degli Esteri a creare le condizioni per poterli portare in Italia. L'ultimo volo è avvenuto nella notte tra il 10 e l'11 marzo e ha portato al Gaslini tre piccoli pazienti che versavano in condizioni estremamente compromesse. Dall'inizio della crisi in Terra Santa sono stati organizzati tre voli ed un'evacuazione attraverso la nave Vulcano. Sono tutti pazienti stabili ma con ferite importanti. La quota preponderante di questi bambini ha ferite di guerra, quindi amputazioni, fratture, ustioni e poi c'è una quota minoritaria di bambini che hanno altre malattie che non possono essere più curati all'interno della striscia di Gaza perché l'infrastruttura ospedaliera non riesce più a gestire non solo le emergenze ma anche quelle che sono le cure di pazienti non vittime di guerra. Sul volo per il Gaslini erano presenti il dottor Andrea Moscatelli e l'infermiera Morgana Baccherini, l'equipe specializzata nel trasporto e nella stabilizzazione di bambini critici in ambienti difficili. Questo ospedale è proprio specializzato nella gestione del trasporto di pazienti critici e quindi semplicemente abbiamo messo a frutto la nostra esperienza in un ambiente non convenzionale ma siamo abituati a gestire emergenze in ambienti non convenzionali.